1, 2, 3, 4! È estate, divertiamoci. Dobbiamo fare tutto quello che ci piace, giusto? Svegliato. Lo sai io cosa voglio? Non dire Jay. Jay. Tu sei bandito da questa casa, va fuori! No! Donna, sono Kitty! Tua figlia sta per fare senso! Lei dov'è? Quindi papà non era così affascinante come sostiene? Diciamo che è una fortuna che esisti. Chi di voi due ha sgridato i miei ragazzi? Non so quali siano i suoi, ma se lo sono meritato. Sono Wayne e Nate e grazie, sono stata incinta di lui dieci mesi. Il dottore ha detto che era tutto ok, ma io non credo. Credo che tu abbia una reazione allergica al mio burro di cacao. Davvero? Voglio fare coming out con tua nanna. Io ho un colloquio domani. Fa delle referenze? Oh, i miei capi mi amavano tutti. Ma sono morti. Sono Jay! Ho detto buona giornata. Ho detto buona giornata.